Serata, assolutamente nel segno dei bambini, coccarda di istintivi di Save the Children, braccialetto dei bambini che nascono, poi ve ne parlo, dei bambini e anche assolutamente appannaggio dei bambini, anche la nostra anteprima, faccio vedere subito a Massimiliano questo meraviglioso magnete di pesca a seroli con lupo, adesso ve ne parlo e vi racconto. Allora, qualche mese fa la seconda elementare, la sezione A della Scuola Falcone Borsellino di Roma, mi aveva invitato, mi aveva inviato una letterina con cui i bambini mi raccontavano di come la loro vita fosse cambiata in meglio da quando nella loro classe è arrivato Livio, un bambino straordinario, specialissimo, ipo-ipovedente e mi avevano appunto anche invitato nella lettera ad andare, magari qualcuno se lo ricordo, ho dovuto addirittura firmare, mi sono dovuto impegnare in diretta durante la trasmissione, naturalmente una promessa, una promessa, siamo andati qualche giorno fa alla scuola con Alessio, Stefani e Antonello, io non so i bambini, noi ci siamo divertiti come matti e spero insomma pure loro. Livio, spero che vi siate divertiti, tu, gli altri, anche le maestre, i maestri, è stata una mattinata straordinaria, senza far torta a nessuno, abbiamo conosciuto anche altri bambini di altre classi, ma nel nostro cuore in maniera speciale ci sono Flavia, Paolo, Sofia, Mira, Lavinia, Dario, Chiara, Mirtia, Flavio, Flavio come me, Enrico, William, Adriano, Andrea, Cristina, Elettra, che mi ha regalato pure un aurelo de cartone, poi vi spiego, Francesca, Michele, Riccardo, Mario, Sofia, P, Antonio, Lorenzo, straordinario che voleva venire via con me a lavorare ad affari tuoi, Vicente, che mi pare fosse argentino, spagnolo, e naturalmente il super Livio, grazie bambini, grazie. Attacco il Magnete, nel nostro mare, nel mare degli affetti affari tuoi, non ve lo dico chi gioca, ciao Livio!